Rossini, Orduna per l'attacco di Holt, ci arriva in modo incredibile, Rizzo, è una nuova opportunità però per l'Azimuth, Holt ancora Rizzo, che difesa, quella del libero della G-Group. Vettori sull'attacco di Botto, la pipe per Petric, alla fine a segno, ma ragazzi date una medaglia a quest'uomo perché Rizzo ha fatto delle cose fantastiche in difesa, si merita davvero gli applausi della formazione giallo-gru soprattutto sulla seconda difesa, dopo l'attacco a tutto braccio al centro di Holt. Grazie 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 Grazie